Buonasera, mi chiamo Ettore Greco, ho accettato l'invito appena il dottore Capolupo e il dottore Paola mi hanno chiamato perché non potevo mancare questa occasione. Diciamo che la mia è una figura ibrida perché io ho lavorato per tantissimi anni all'ospedale di La Mezza Terme, ho fatto l'oncologo, quindi la mia professione si è svolta esclusivamente nell'ospedale di La Mezza. Tuttavia negli ultimi periodi è nata l'idea di creare un ambulatorio oncologico anche all'ospedale di Soveria e devo dire che umilmente ho contribuito a cercare di evitare che questo ospedale andasse così in agonia. Non so fino a che punto ci siamo riusciti ma comunque la mia intenzione era certamente di fare del bene. Speriamo che non naufrighi del tutto e speriamo che come diceva il dottore Capolupo ci sia una ripresa della sanità pubblica perché ne abbiamo tutti bisogno. Grazie. Grazie a tutti.